Marta Cantero, oro nel singolo, argento nel doppio, che mondiale è stato? Le tue sensazioni? Allora, nel singolo è stato unico, un po' pesante, però ero emozionata e quindi nel bordo, quando sono uscita, avevo immaginato che ho vinto. Eri contenta? Nel singolo, sì, sono fia di me, contenta nell'anima, solo questo. E invece il doppio può essere un punto di partenza per migliorare ancora? Nel doppio dobbiamo essere più in sincronia, ci dobbiamo vedere di più. Vorrei fare le olimpiadi. E adesso sei pronta già a tornare a allenarti? Beh, no, sì, io ho voglia, io ho voglia di allenarmi, io ho questa voglia, perché poi da questo, da queste nuove dì vado in piscina. L'emozione più bella, avuta? Allora, l'emozione, beh, ok, quando sono uscita nel bordo, diciamo che c'è una fantastica narratrice che mi ha colto e che mi faceva, cioè il tifo del singolo, diciamo che io l'ho fatto per lei questo singolo, quindi c'è quando ci sono le fai olimpiadi ancora di più.